allo le mundo come i vecchi tempi allora siccome ancora i fans e le followers che mi cercano su facebook anche se non c'è più controlli degli stati del whatsapp le foto per vedere dove vado cosa faccio eccetera eccetera quindi vedi a marcorde a marcorde e niente una volta zio pepe muscica ex presidente degli uruguay presidente più povero del mondo ha detto che i soldi sono solamente carta e che tutta la merda che compri li compri non con i soldi ma col tempo che investi col tempo della tua vita che investi per guadagnarti questi soldi l'altra volta qualcun altro ha detto che il meglio della vita è gratis anche se poi magari non è mai messo in pratica comunque oggi gratis day oggi a passeggio con il mio amore eccole oggi giro dei laghi levico caldonazzo e calceranica tutto gratis natura tranquillità sole libertà freddo tanto freddo tutto gratis anche un voglio eccolo qua non so se si vede è bello anche per quello anche un bel voletto gratis comunque adesso un attimo di riposo e poi si continua anzi respiro a fondo e continuo quindi un saluto ai fans alle foglie webs come si dice da caldonazzo gabriele e le anatre a voi studio ciao invidiosi e curiosi e curiosi gne 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 grazie a tutti 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 Grazie per la visione